Intanto il tema è ben scelto, dico anche per quello che mi riguarda. Un angelo ispiratore vi ha suggerito di non mettere cose dell'amore dentro questo tema che si infilano subito facilmente, ma io ho un embargo sulla parola amore, è diventata talmente stolida che io non la voglio più usare, cerco di fare di tutto. Nel cristianesimo è difficile non usarla, infatti io dico agape in greco tanto per dire un po' di smarrimento perché è veramente diventata una parola nera o bianca, chiamatela come volete, cioè il cui margine di insignificanza è ingovernabile, quindi per un po' bisogna tenere al riparo, usarla con molta circospezione perché ormai riguarda tutto, noi amiamo il tempo bello, diciamo amore, amiamo i chihuahua, amiamo Dio, abbiamo... I love è proprio universale, ora questo svilisce le parole, è quanto più sono importanti. Quindi invece cura e dono, bene, molto meglio come approccio, si arriva poi anche all'amore, ma meglio cominciare di qui. E il secondo, solo queste due annotazioni fuori testo, poi cerco di farvi una traccia, poi parleremo un po'. La seconda annotazione fuori testo, che interessa proprio la specificità di questo titolo è queste due parole, questi due termini, questi due concetti, cura e dono, sono proprio le due figure emblematiche, proprio esemplari di ciò che fino a ieri restava fuori dal discorso del bene comune. dal discorso classico del bene comune. La cura e il dono, fino a ieri, erano invece beni tipicamente estemporanei, non di sistema. Non dovete pensare, adesso vi viene in mente, dice, ma la cura, noi chiamiamo la sanità il sistema della cura. Eh, appunto, ma questo siamo noi, noi moderni che facciamo così. Ma la cura, la cura è più vicina all'elemosina, al buon samaritano, capisci, è la cosa estemporanea. La cura e il dono erano figure della relazione umana tipicamente estranea al bene comune. Quindi voi siete lì sul punto, se dite, facciamo un discorso sul bene comune, ci mettiamo la cura e il dono. Oggi le nostre orecchie, sì, sono più sensibili a questo. Abbiamo un sistema sociale nel quale, almeno negativamente, incominciamo a sentire la mancanza di queste due figure. E, se appena ci riflettiamo un attimo, percepiamo, per quanto vagamente, confusamente, che non ci basta la loro definizione classica, il loro inquadramento classico. Sentiamo che nel sistema sociale la cura e il dono ci mancano, devono prendere importanza, non solo come atteggiamenti estemporanei, e nello stesso tempo è come se ci mancassero le parole per dirlo. Un po' perché il bene comune si è molto declinato nei termini dell'economia. E allora, sai, anche la qualità della vita è diventato più un concetto economico che non dell'interiorità. Un po' per questo, quindi ci mancano parole per dire qualcosa che sentiamo che ha a che fare con l'economia, con il sistema sociale, la cura e il dono, però sporge anche un po'. Non è proprio un affare di compravendita, di scambio commerciale e mercantile. È questo che ci manca. Però non abbiamo le parole in positivo per dirlo. Ecco, noi siamo già al punto. La prima osservazione che possiamo fare per metterci in pari con questa intuizione giusta, e cioè che cura e dono hanno a che fare col bene comune, e non semplicemente, quindi col sistema sociale, e non semplicemente con la virtù individuale dei singoli, delle singole persone che fanno regali oppure che si prendono cura al momento di quello che si sente male. Ecco, noi abbiamo ragione a pensare questo, abbiamo il problema di inquadrare un po' meglio il rapporto che questi due oggetti, chiamiamoli così, hanno con il concetto di bene comune, che invece è un discorso globale, un discorso sistemico, che riguarda la struttura della vita sociale. Che cosa è successo che, diciamo anche dal punto di vista culturale, al di là dell'esigenza che noi sentiamo, ha riportato questi due oggetti nel fuoco del concetto di bene comune? Cioè ha incoraggiato la cultura recente a iscriverli come elementi del sistema sociale e non semplicemente della virtù estemporanea. Diciamo, dal punto di vista culturale fondamentalmente due cose, le dico brevemente, tanto perché qualche volta bisogna fare qualche nome e cognome. Il primo è la scoperta di un signore che si chiama Marcel Mosse, sociologo, antropologo, genero di Durkheim, che è padre fondatore della sociologia moderna, diciamo, contemporanea, del quale è stato riscoperto un saggio sul dono che, in controtendenza con l'orientamento generale dell'economia, della cultura, della teoria sociale, diciamo, disponibile al suo tempo, avendo studiato delle situazioni, dei gruppi etnici, nei quali ancora sopravviveva un sistema generale di scambi che ai suoi occhi aveva la forma più della donazione che non del contratto mercantile, avanzato in modo un po' vago, ma come è giusto ogni tanto, gli studiosi devono fare così per darti anche a te qualcosa da pensare, dici io ho questa intuizione, adesso vedi tu come andare avanti, avanzato questa idea che non è poi così strettamente necessario che un sistema sociale si regga su un'economia del mercato, cioè dello scambio mercantile. Perché nella storia e in un certo senso anche nell'attualità antropologica, vi ho andato a studiare queste tribù dell'Oceania, dell'Amazzonia, eccetera, ci sono sistemi sociali, tutto sommato abbastanza ben funzionanti, in cui accade invece che la struttura di base, anche lì c'è lo scambio, io ti do il pesce, tu mi dai la tartaruga, eccetera, capisci? Ma la forma simbolica, l'orientamento culturale, il contenuto di valore, insomma, che si dà al sistema degli scambi che tengono insieme una società, costruiscono un legame sociale, sviluppano i rapporti, e quindi anche i beni disponibili, ha la forma del dono, invece che quella del contratto. E con questa intuizione dice, quindi perché no? Niente vieta finiva con questa ipotesi, lui, il suo discorso, dice, ho fatto un saggio, ho studiato questa cosa, ho visto che qui tutto funziona, si produce, si scambia, si caccia, si pesca, si fanno i matrimoni, eccetera, e tuttavia la logica degli scambi e dei legami è la logica della donazione. e tuttavia è molto solida. Non è che, come siamo abituati noi, dice, beh, la logica del contratto è ferrea, invece la logica del dono, questa è la sua intuizione, che a tutti ha acceso una lampadina. e cioè l'intuizione è il sistema del dono, la forma simbolica della donazione, che poi si collega con un principio della cura come principio sociale, che guardate, è il principio della ringhiera delle nostre nonne, quando una mamma sola bastava per tutti i bambini del cortile, non importava di chi fossero i figli, aveva la stessa autorevolezza e te li governavano. E questo, eh? Non è che era più blanda la cosa perché dice, non c'era un contratto di babysitteraggio, no, no, i bambini filavano, qualunque mamma fosse, perché sapevano che le altre mamme facevano parte del sistema. E come ci dicevano le nostre nonne, e tornavi a casa, se la maestra ti aveva sgridato, le prendevi anche da tua madre. Ecco, perché il sistema era così, la complicità del sistema garantiva appunto, come dire, vincoli maggiori di quelli di una firma scritta, capisci? E questa è la vera intuizione. Non avevi scoperto, qualche volta nella divulgazione si dice, sai, il dono, abbiamo riscoperto l'importanza del dono. No, t'attento. L'intuizione di Moss è questa. Ci sono società, ci sono state società, ci sono società, potrebbero esserci società, in cui, a parità di vincoli, il concetto simbolico in cui si scrive il legame sociale e la tutela del bene comune, non è quello del mercato, dello scambio, della compravendita, ma quello del dono, della cura, della reciprocità. Noi, dice, ci siamo abituati a pensare che, anche per ragioni religiose, eccetera, che un sistema è quello del dono, diciamo, potenzialmente molto nobile, molto alto, ma anche molto leggero è molto estemporaneo, una cosa regalata, capito, ecco, non è, c'è una cosa che c'è, e che invece il sistema dello scambio, chiamiamolo contrattuale, perché non è necessariamente mercantile, che può anche rischiare di inquinarci il ragionamento, non è una polemica col mercato, non è quello lì il problema. Diciamo, lo scambio contrattuale, che anche senza transazione a mezzo di denaro, comunque, tu metti una firma, ha un valore giuridico. Questo invece è forte, a prezzo del fatto che comporta un'alta dose di anonimato, di indifferenza ai rapporti, eccetera, cioè una firma è una firma, la regola è la regola, si applica, non importa chi tu sei. Questo ha ridestato molta attenzione nella cultura contemporanea sociologica, ma anche filosofica, perché andando a vedere le nostre società occidentali, e qui diciamo il genio è Godbout o Gobu se lo volete pronunciare, sei canadesi, adesso non sai più se è politicamente corretto pronunciarlo all'inglese, è scritto Godbout, ecco, quindi Gobu o Godbout dite voi, che è un signore molto brillante, ha aggiunto un tassello alla contemporaneità di questo ragionamento, ha detto sentite, io ho scoperto che anche nelle nostre società occidentali evolute, quindi contrattuali, mercantili, eccetera, insomma, dove il sistema della donazione e della cura diciamo altruistica sono estemporanei, regalo di Natale, l'obolo, ti presto l'aspirina, insomma, in realtà esse stesse vivono sistematicamente di cospicui livelli della donazione. di vittorio di facili con di sottotitoli di in realtà della donazione rilassata rilassata Grazie a tutti